Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video filmato Cosa mangiare un giorno E partiamo dalla colazione E abbracci, che sono biscotti che adoro sto periodo Con vicino tazzuna di tè Pranzo invece abbiamo mangiato O meglio, abbiamo preso del panno Casareccio integrale, ok Siamo state a questo caseificio che si chiama Caseificio Costanzo, si trova ai castelli romani A Grottaferata chi è? Di Roma saprà E abbiamo comprato un po' di cosine Ricottine miste, fior di latte Poi giustamente, come si dice qua a Roma Solo siamo magnati i decori Quindi ricottina, erano un po' mix Il peperoncino, le noci, rucola Quindi io ho preso la ricottina piccante Uova sotte, sformatino di zucchine E fior di latte Chiaramente lo sformatino di verdura che avete visto prima L'abbiamo fatto noi un po' stilegato con le zucchine Merenda, vi stupirò, niente di sana Ma come avete visto, succo di polpa di pera Ogni tanto per cambiare Con vicino queste schifezzacce Che anche queste ogni tanto ci vogliono Io sono un amante di cocco Non so se lo sapevate Ma io amo il cocco in ogni sua forma E queste praline appunto Piene di cocco Ce n'è invece un qualcosa di super goturioso Ragù fatto in casa Da mia mamma Tutto quanto Procedimento Becciamella altrettanto Con chi io ne rivieni Di macinato Becciamella E vi lascio qui nelle schede informative La videoricetta Che ho girato con lei Durante i MoloLoo Christmas Siamo al termine Tisanina post-cena Visto che Per merenda niente di sanina Ho rimediato la sera Ragazzi eh Moon Solution È una tisana un po' rilassante Post-cena Vabbè non è tanto per il rilassante Ma mi piace il gusto Con questo ci vediamo domani 20.30 Con un nuovo video Con un nuovo video